Come si trovano i registri acasici? Partiamo dal concetto che i registri acasici vengono normalmente visualizzati come una grande biblioteca che raccoglie questi volumi di tutta la storia della Terra, dell'umanità e quindi anche di ogni singola anima. In realtà, dal mio punto di vista, sono dei campi di informazione ai quali si può accedere attraverso determinate pratiche. I lettori di registri acasici normalmente ricevono delle iniziazioni e degli addestramenti per poter accedere a questi campi di informazione e andare a spulciare informazioni su quello che è la storia e anche, volendo, il destino umano. Diciamo che è possibile accedere ai registri acasici anche, per esempio, attraverso un viaggio sciamanico, ci sono diversi modi, ma normalmente è importante avere un addestramento, no? Vengono svolti proprio dei corsi, delle iniziazioni per le persone che si interessano a questo tipo di esperienza, ok? La cosa curiosa che ho scoperto proprio un mesetto fa è che, per esempio, nella tradizione andina c'è una visione molto simile. Si parlava con dei miei maestri i quali dicevano che nella tradizione andina, per esempio, non esiste la reincarnazione e quindi spiegavano che quando le persone hanno, come magari posso avere avuto io delle memorie di quelle che potrebbero essere vite precedenti, in realtà non hanno fatto altro che accedere a quelle che sono le memorie della paciamama, della terra. Perché la terra su cui noi poggiamo i nostri piedi registra le memorie, così come fa anche il nostro corpo, di tutto ciò che le vive sopra. E quindi, dal loro punto di vista, in alcuni casi, alcune persone sono in grado di, come assorbire dalla paciamama queste memorie e riviverle come se fossero loro, come se fossero vite loro. E quindi questa cosa mi ha incuriosito perché è una visione molto simile a quella dei registri acasici, però non visti come, appunto, questa biblioteca nello spazio, no? nell'etere, ma come qualcosa registrato nella terra che può essere assorbito esattamente come una pianta assorbe i nutrimenti.